Il presidente Di Blasio ha fatto un bando senza dire niente dopo che avevamo fatto un accordo sulle linee guida e disattende tutte le linee guida che abbiamo fatto l'accordo. Non è la prima volta che dice una cosa, firma e dopo fa tutt'altro. Per questo i lavoratori portuali temporanei, un centinaio circa, dopo un'accesa assemblea con i rappresentanti sindacali, hanno deciso di scioperare a oltranza e chiedere le dimissioni del presidente Di Blasio e della segretaria generale Scardino. Molte le critiche mosse al bando, ritenuto poco chiaro in diversi passaggi. Ci sono temi importanti come la clausola sociale, la clausola sociale è la garanzia che tutti i lavoratori che ipoteticamente passano da un'azienda A a un'azienda B siano tutelati e non ci sia nessuno lasciato fuori. Il problema nasce dai numeri effettivi che devono essere a Venezia e a Chioggia. A Venezia dovremmo essere minimo 135 persone, a Chioggia un numero molto inferiore rispetto a quello che ha fatto lui. Il bando dice 120-20, ma in realtà noi dovremmo essere 135 almeno, come da direttive ministeriali. Siamo disponibili ad assumere gli esuberi di Chioggia, però ci devono essere due bandi distinti, come scritto nelle linee guida. Di Blasio ha cercato di rassicurare le controparti e chiarire i diversi punti, annunciando anche di aver convocato un tavolo con i sindacati nazionali. Visto l'interesse sollevato da un bando, di fatto apri pista in Italia. Ma fino a che non ci sarà un'azione concreta, lo scalo veneziano dovrà fare i conti con lo sciopero. Lo sciopero continua ad oltranza, non c'è cedimento. Ovviamente appena ci saranno delle situazioni concrete, ci confronteremo con i lavoratori. Nei prossimi giorni faremo anche delle iniziative sul territorio e nei luoghi di lavoro e cercheremo anche di coinvolgere gli altri lavoratori, sempre ovviamente della realtà portuale.